Macro categoria studi e boutique legali e professionali, categoria consulenza. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno, consulenza piccole e medie imprese. La motivazione per essere dei professionisti stimati e in costante ascesa, esperti di crisi di imprese e contenzioso tributario, nonché punto di riferimento nella consulenza fiscale, finanziaria e lobbistica alle piccole e medie imprese. Per l'innovazione del format Salotti Fiorentini 21. The winner is Studio Professionale Fiorentini. Ecco, ben trovati, sono in collegamento con me Ezio Stellato, founder e Daniele D'Ambrosio, founder entrambi, naturalmente, dello Studio Professionale Fiorentini. Complimenti per questo premio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io vi chiedo subito, grazie a voi naturalmente, complimenti. Io chiedo subito a Ezio, magari parto da lei, poi sentiamo anche Daniele, un commento a caldo su questo riconoscimento, che cosa significa per voi? Guardi, una vittoria inaspettata. Abbiamo partecipato alla selezione di questo premio internazionale e siamo rimasti meravigliati del risultato. Allo stesso tempo siamo contenti perché lavoriamo da anni assieme in tandem, con Daniele D'Ambrosio, con i nostri colleghi di studio, ci facciamo collaborare da una squadra che ha sempre creduto in noi, nel nostro impegno. E il lavoro ci ha premiato, ci ha premiato perché investiamo in tecnologia ed innovazione e crediamo che la consulenza non siano solo numeri, ma sia capitale umano, vicinanza ai nostri clienti. Quindi sono davvero soddisfatto di questo risultato, grazie. Ma ci mancherebbe, insomma i complimenti sono tutti per voi. Allora Daniele, stessa cosa chiedo a lei, magari parlando anche di come in questo momento vi state approcciando anche al futuro, forti dei successi e dei risultati che avete ottenuto fino a questo momento. Certo. Allora io ribalto l'espressione del mio socio, le espressioni di gioia. La gioia deriva dal fatto che questo è un premio che per noi arriva dalla condivisione. La condivisione che nasce da un piccolo esperimento. Durante il lockdown abbiamo avuto l'esigenza personale per i nostri clienti di condividere una stanza virtuale. Una stanza virtuale per non essere soli e per riuscire a comprendere i confini indefinibili di una crisi pandemica mondiale che ha tracciato dei due percorsi che per la prima volta tutti insieme abbiamo affrontato. Da lì è derivata una bella esperienza, il salotto fiorentini che ha preso le mosse dallo studio fiorentini, ma lo studio fiorentini poi, nella bellezza di questa interazione, ha assorbito dal salotto fiorentini l'esperienza della condivisione. In sostanza siamo partiti per lanciare un messaggio ai nostri clienti. I nostri clienti hanno ribaltato il messaggio su di noi, si è creata questa stanza virtuale di condivisione, l'esperienza si è moltiplicata e ad oggi una cosa abbiamo imparato da questa crisi, da questa esperienza, che per essere realmente consulenti, per fare una consulenza ritagliata su quelli che sono gli impatti sociali dell'economia, perché noi ci riteniamo degli stakeholder dell'economia che hanno un impatto sulla società, bisogna essere ritagliati insieme alla società, insieme ai loro bisogni. E questa esperienza ci ha insegnata ad ascoltarli e a farne parte. Assolutamente, beh, mi vien da dire soprattutto in un contesto attuale, insomma, dove c'è ancora più bisogno di contatto, magari modulato in modo diverso, però insomma poi da lì non si prescinde, siete d'accordo? Bisogna essere reattivi, molto reattivi, reattivi e proattivi, questo ci ha insegnato l'esperienza. Assolutamente, quindi insomma continuare così fondamentalmente può essere un po' il motto. Sicuramente, l'investimento soprattutto per le innovazioni e la tecnologia, perché oggi più che mai bisogna essere vicini alle categorie delle imprese con l'innovazione. Questa pandemia mondiale ci ha insegnato e ci ha fatto sviluppare il senso dello smart working, ma anche della distanza. Ma allo stesso tempo lo sviluppo dell'innovazione tecnologica negli studi professionali serve a stare vicino ai clienti come se fossimo praticamente non distanti. Quindi l'investire nelle risorse tecnologiche è per il futuro una semplificazione per le aziende e per noi professionisti. Assolutamente, allora io naturalmente rinnovo i complimenti allo studio professionale Fiorentini e saluto e ringrazio Ezio Stellato e Daniele D'Ambroso, founder dello studio e ci sentiamo spero presto per altri riconoscimenti. Complimenti e buona giornata. Speriamo anche di poterci vedere. Sì, 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 dai, assolutamente sì, sono certa. Buon proseguimento. Buon proseguimento. Grazie. Grazie.